La pandemia non molla la presa sulla Puglia dove continua a crescere il numero delle persone attualmente positive al coronavirus. Sono 1.644 i contagi delle ultime 24 ore riportati nel nuovo bollettino epidemiologico regionale. Su 10.224 tamponi effettuati, il tasso di positività è del 16%, due punti in meno rispetto al dato nazionale di ieri. Si aggiorna purtroppo anche il numero dei decessi collegati alla pandemia con altre 5 vittime. Nell'area metropolitana di Bari il maggior numero di nuovi contagi, 543, seguita dalla provincia di Lecce con 424 e da quella di Taranto con 233. Sotto i 200 casi le province di Brindisi e Foggia, solo 57 nella BAT. Il numero dei pugliesi ancora positivi al covid sale a 13.775, ben 472 in più rispetto a ieri. Stabile invece la situazione sul fronte ospedaliero, 126 ricoverati in area non critica, 1 in meno di ieri, 8 le terapie intensive occupate.